il natale non significa solo pranzi e doni ma è soprattutto un giorno di riflessione perché non sempre la vita è generosa ma è la forza che c'è in noi a cambiare la sorte pensate alla gioia nell'udire un bimbo dire per la prima volta mamma al vedere che si veste mangia si prepara le sue cose va al bar per ordinarsi un gelato sale sul bus riesce perfino ad andare a lavorare con responsabilità e tutto da solo senza alcun aiuto quanta felicità nel vederlo sorridere intravedendo nei suoi occhi luci e speranze perché un bimbo con autismo può vincere la sfida contro l'apatia e conquistare grandi traguardi ecco questo è il nostro natale affidato alla speranza all'impegno ai sacrifici tesi a camminare a fianco dei nostri figli con un sorriso che rassicura loro ed aiuta noi a percorrere questa strada piena d'ostacoli ma anche di gioia ogni volta che si raggiunge una meta